Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Si era nascosto a Pescara, uno dei cinque ricercati per l'omicidio del pregiudicato albanese Elson Calaveri, 36 anni, ucciso in un agguato in strada il 18 agosto 2022 a Sasso Pisano, nell'entroterra toscano. Dopo un anno di indagini, la maxi-operazione Canun, portata avanti dai carabinieri di Pisa, ha portato all'arresto di tre italiani e due albanesi, ritenuti responsabili a vario titolo di omicidio premeditato in concorso. Il blitz è scattato all'alba di oggi, tra Castelnuovo, Val di Cecina, nel Pisano, Napoli, Casoria, Pescara e Albania. Le operazioni hanno avuto la collaborazione dei comandi territoriali di Abruzzo e Campania, dei funzionari di Eurojust e della polizia albanese. Tra le accuse contestate agli arrestati è anche il porto abusivo di armi e la contraffazione di targhe. Per la procura di Pisa, che indaga sull'accaduto, il movente dell'omicidio sarebbe legato ad un regolamento di conti. Uno degli albanesi indagati, per vendicare la morte del fratello, secondo un rito del codice consuetudinario albanese, detto appunto Canun, avrebbe assoldato nel napoletano un gruppo di fuoco italiano per uccidere la vittima, attraverso una vera e propria esecuzione in strada. Elson Calaveri, 36 anni, abitava nella provincia di Siena, aveva precedenti penali aperti per sfruttamento della prostituzione. In Albania fu arrestato nel 2014 per l'omicidio di un vicino di casa, ma allora si difese dicendo di aver agito per legittima difesa. Il 18 agosto 2022 fu attirato in una trappola un agguato a San Sopisano. Era in auto quando gli vennero sparati addosso 15 colpi di pistola. Il comando lo lasciò poi agonizzante, facendo perdere le proprie tracce. Almeno fino ad oggi, per i cinque arrestati, si sono spalancate le porte del carcere.